La tv è in cinema, grande e piccolo schermo, quando la tv guarda al cinema e lo reinventa. Gemella separata alla nascita del cinematografico Conan, a voi la principessa guerriera Xina, Vania Asciati. Al tempo degli dei dell'Olimpo, il genere Vano invocava il soccorso di un eroe. Finalmente arrivò Xina, l'invincibile principessa guerriera forgiata da un fuoco di mille battaglie. Xina, Vania Asciati 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.